Se mi seguite regolarmente probabilmente saprete che in questo periodo ho ricominciato la carriera su GTA Online e quale modo migliore c'era di ricominciare la carriera su GTA Online se non venendo truffato da questo gioco che ancora una volta me l'ha giocata, capito? Il gioco che me l'ha giocata... Vabbè, ci siamo capiti perché sto dicendo questo, perché ho acquistato insieme alla creazione di un nuovo account l'abbonamento a GTA Plus, il solito abbonamento che vi ricordo costa circa 5 euro al mese a seconda del paese in cui lo acquistate e questo abbonamento, a cosa serve per chi non lo conosce? Facciamo un breve riassunto serve semplicemente a darvi dei vantaggi mensili e in più 500.000 dollari ogni mese Ecco, questo ogni mese, nel mio caso sembra corrispondere a ogni mese che Rockstar Games vuole effettivamente darmi questi soldi perché non è la prima volta che mi tende un tranello questo gioco e anche questa volta non ho ricevuto il denaro che mi sarebbe aspettato Ora, non voglio parlare del fatto che sicuramente aprendo un ticket con Rockstar Games il denaro me l'avrebbero accreditato Ok, ma questo non dovrebbe essere necessario Il discorso sarà molto più ampio in questo video e non riguarderà solo questo caso di per sé Voglio utilizzare questo caso solo per aprire il discorso Insomma, prima è bene rispondere ad alcune domande che potreste porvi e anche ad alcune cose che potreste dire per difendere questo abbonamento e difendere il fatto che io non abbia ricevuto il denaro che mi spetta Sostanzialmente, alcuni mi hanno detto col tempo Beh, ma guarda che il denaro lo ricevi dopo un mese Infatti c'è scritto che i giocatori che acquistano e mantengono attivo questo abbonamento riceveranno ogni mese 500.000 dollari Ok, va benissimo, non è effettivamente chiaro al 100% ma allora perché l'altra volta che l'ho acquistato sull'altro account me li hanno dati subito questi 500.000 dollari Capite che già di per sé dicendo questa cosa tutto il discorso non fila Sì, beh, in questo video si parla di grandi spese ma ti ricordo che se vuoi ricevere qualcosa senza spendere nulla qui sotto trovi il contest mensile di Instant Gaming grazie al quale puoi vincere qualsiasi gioco a tua scelta e tra l'altro in cui puoi anche acquistare tutti i giochi più nuovi a prezzi scontatissimi Link di tutto qui sotto Altri dubbi che potrebbero venire riguardano il fatto che il personaggio fosse nuovo, l'account fosse nuovo che la transazione non sia data a buon fine e che io effettivamente non abbia acquistato l'abbonamento ma è subito sfatabile questo dicendovi che io gli altri vantaggi che questo abbonamento dà molto pochi perché sono molto pochi soprattutto questo mese è una merda ciò che dà questo abbonamento perché vi dà la cassaforte gratis all'ufficio la cassaforte che non serve un cazzo perché i soldi non serve tenerli in cassaforte li tiene il personaggio nel conto in banca o nella sua tasca dalle dimensioni spropositate visto che può tenere milioni in tasca concludiamo la frase li ho ricevuti parlavo dei vantaggi che ho ricevuto insomma parlando di questa pseudo truffa togliendo anche pseudo e dicendo solo truffa ai miei danni che è stata portata avanti da questo gioco maledetto vorrei andare a ricollegarmi con le Shark Cards le Shark Cards cosa sono? sono il denaro di gioco ufficiale acquistabile per GTA V sovrapprezzato, costosissimo, ne abbiamo parlato tantissime volte ma in questo video voglio andare a vedere tra le altre cose perché nonostante questo denaro sia sovrapprezzato e questa idea sia comune a praticamente tutti il fatto che sia sovrapprezzato venda lo stesso perché pensateci tutti noi stiamo lì a dire i Rockstar Games siete degli idioti mettete 8 milioni a 75 euro minchioni ma chi cazzo ve li compra? se ci sono gli account moddati o comunque l'aggiunta di denaro da centinaia di milioni a 50-60 euro loro però dall'altra parte se la ridono probabilmente molto più di noi perché il denaro, questa volta si parla di denaro nel mondo reale se lo fanno lo stesso perché le Shark Cards non sono mai e poi mai diminuite di prezzo la Megalodon Shark Card che vi dà 8 milioni è sempre, sempre costata 75 euro hanno applicato degli sconti ogni tanto ma si tratta veramente di sconti infimi a volte l'hanno buttata fuori a 62-63 euro qualcosa del genere ma si tratta comunque di prezzi folli se paragonati a quelli delle aggiunte di denaro che fanno in tantissimi nella community italiana e non di GTA ora il discorso riguardo l'affidabilità lo voglio affrontare dopo ok? perché quello fa parte della risposta alla domanda ma perché la gente ancora compra le Shark Cards perché non le hanno ancora abbassate di prezzo c'è anche da dire un'altra cosa quando le hanno messe in bundle con il gioco di per sé il prezzo del gioco era rappresentato dalla Shark Card di per sé perché mi ricordo quando misero in bundle la Megalodon Shark Card con GTA V il prezzo arrivò a essere qualcosa come 110 euro e ricordo che la Megalodon Shark Card costa 75 quindi a quanto pare vanno forte queste Megalodon Shark Cards addirittura dopo 8 anni dall'uscita di questo gioco ma se da una parte l'acquisto del denaro di gioco non è mai andato in sconto dall'altra parte in realtà delle occasioni ci sono state non occasioni per risparmiare ma occasioni per avere più denaro spendendo la stessa cifra c'è stato un periodo anzi in realtà ci sono stati vari periodi in cui hanno dato dei bonus come il 50% in più il doppio addirittura di quanto avreste dovuto ricevere per un periodo hanno dato 16 milioni con l'acquisto della Shark Card da 8 milioni quindi con 75 euro comunque non vantaggioso come acquisto se si paragona il prezzo ai prezzi che fanno i venditori di terze parti di denaro di GTA Online però si tratta comunque di un buon affare considerando che appunto si tratta di denaro ufficiale che ti dà Rockstar Games ma la domanda quindi è perché i prezzi non vengano abbassati e questo può anche ricollegarsi al prezzo dell'abbonamento a GTA Plus perché questo prezzo non viene abbassato seppur questo abbonamento sia stato bocciato da tutti beh la risposta in realtà può sembrare più semplice e banale di quanto non si creda perché Rockstar Games non costa nulla tenerlo attivo è quello il punto del discorso e vale anche per i prezzi delle Shark Cards che senso ha per Rockstar Games abbassare i prezzi se tanto alla fine non ci spende niente nel vendere le Shark Cards ora ok se nessuno acquistasse più Shark Cards ovviamente l'economia del gioco sicuramente ne risentirebbe però sta anche di fatto che comunque GTA 5 continua a vendere copie continua a fatturare continua a portare soldi in tasca a Rockstar Games quindi per quanto mi riguarda la maggior parte del guadagno delle Shark Cards è tutto grasso che cola non è denaro che serve a Rockstar Games per portare avanti tutto il lavoro che serve per il gioco e che lavoro stanno facendo in questo periodo perché i DLC comunque che stanno realizzando sono abbastanza semplici da realizzare e tutto questo è anche dovuto dal fatto che appunto come ho detto GTA 5 stia continuando tutt'oggi a portare soldi in tasca a Rockstar Games al di là della vendita delle Shark Cards si tratta di un bene digitale creato da Rockstar Games senza costi senza spedizione senza bisogno di dividere le percentuali con servizi di terze parti tranne in piccola parte magari con il Playstation Store che permette di acquistarlo la stessa cosa vale per Xbox però il punto è questo è guadagno per Rockstar Games semplice e adesso il quesito si sposta quindi su ma perché la gente quindi ancora le compra le Shark Cards se ci sono servizi di terze parti molto più convenienti perché la gente si abbona a GTA Plus se ci sono servizi di terze parti più convenienti beh la risposta è presto data perché si tratta di una cosa primo ufficiale quindi sai che non vieni scammato e se vieni tra virgolette scammato contatti l'assistenza e quello per cui hai pagato te lo danno perché non devi uscire dal gioco perché non devi dare i tuoi dati di accesso a nessuno per carità ottieni un decimo di quello che otterresti ma appunto non esci dal gioco ti senti meno sporco con i soldi di Rockstar Games ci sono un sacco di motivazioni per cui la gente può acquistare le Shark Cards sebbene non sia per niente conveniente e poi anche cosa comune che il denaro di gioco costi tanto è così per qualsiasi gioco almeno di quelli che ho visto io poi se mi sbaglio me lo direte nei commenti ma per quanto mi riguarda vi posso dire che in genere il denaro di gioco costa sempre tanto e addirittura in percentuale riesce ad arrivare a costare anche più del gioco e ne è una dimostrazione pratica il prezzo di GTA V che comunque vi ricordo anche come prezzo base 70 euro il prezzo che costava appena uscito è ugualmente inferiore al prezzo della Megalodon Shark Card che ne costa 75 non parliamo di quanto costi adesso GTA V perché lo si trova su PS4 a 30 euro su PS5 a 40-50 euro su PC a 10 euro Instant Gaming se volete GTA V meno di 10 euro il link qui sotto in descrizione come ho detto e quindi la domanda per chiudere il discorso è ma fallirà mai l'abbonamento a GTA Plus come si aspettavano tanti e come si auguravano tanti giocatori la risposta secondo me a questa domanda e so che stiamo dando tante risposte a domande in questo video ma è necessario? e... beh... no secondo me è no per il semplice fatto che alla fine tenerlo attivo a Rockstar Games costa molto poco capiamoci e questo abbonamento è poco conveniente per quello che spendi ti dà veramente poco ripeto ancora una volta mezzo milione e giusto qualche vantaggio qualche sconto ogni mese ma dall'altra parte perché mai Rockstar Games dovrebbe disattivarlo ormai se l'è studiata se fate i suoi calcoli l'abbonamento c'è ci sono alcune persone che lo comprano e sebbene sia stato distrutto da veramente tutti non ci sia nessuno che abbia gradito questo abbonamento c'è gente che lo fa al di là di me che lo faccio perché vabbè ci faccio i video bla 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 comunque per me non è una spesa per me è solo guadagno però c'è gente che comunque lo fa questo senza ombra di dubbio e anche se si tratta di una piccola percentuale delle decine se non centinaia di migliaia di utenti che giocano ogni giorno a GT Online si tratta comunque di un profitto alla fine facile e come ripeto ancora una volta senza costi senza troppi sbattimenti Rockstar Games dice questo mese scontiamo sta cosa ci può stare anche solo uno stronzo che pensa a cosa scontare ogni mese a cosa dare come bonus ogni mese la baracca resta in piedi ma la domanda ora passa a voi cosa ne pensate di questo abbonamento cosa ne pensate delle shark cards che tutt'oggi sono ancora vendute allo stesso prezzo scrivetemelo qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto sapete che fare vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima